Lunedì 2 maggio 2022, benvenuti, bentornati soprattutto a una nuova puntata di Anipad Guy, il podcast che si è preso di qui e di là, diciamo, un mesetto di ferie forzate perché ogni mercoledì, che poi è un lunedì, perché siamo su Anipad Guy, quindi ogni lunedì per le scorse settimane c'è stato effettivamente un ponte, quindi prima Pasquetta, poi il 25 aprile, però diciamo che siamo qui, siamo oggi a inizio maggio, quindi direi che è arrivato il momento e sono veramente felice di iniziare un progetto che oramai porta avanti da diverso tempo, soprattutto su Yetech, che è Maggio S. è un mese che ci ritagliamo da quello che è il racconto della tecnologia che ci porterà fino a lunedì 6 giugno, in cui Apple svelerà al mondo quelle che sono effettivamente le prossime versioni dei nuovi sistemi operativi, a partire da iPadOS, visto che siamo su Anipad Guy, quindi mettiamo la sigla e capiamo cosa potremmo aspettarci tra un mese. Wow, ho detto sicuramente sbaglio sigla, perché se state ascoltando questo podcast nell'esatto momento in cui esce, oggi questo podcast è in diretta, dura un po' più del solito, però l'occasione è particolare, visto che un appuntamento così ha anche bisogno un po' di un'aritualità, quindi diretta per quelli che seguono appunto live, per gli altri semplicemente esce con qualche minuto di ritardo, con circa un'oretta di ritardo sulle piattaforme rispetto al solito. Vi ricordo che se state ascoltando questo podcast su Spotify o su Apple Podcast, potete lasciare una recensione per aiutare il progetto a venire diffuso, perché sostanzialmente anche la bellezza di Maggio S è quella di avere un popolo che con le volontà in qualche modo rimpolpa quella che è la lista di quello che vogliamo. Lista che ovviamente avete compilato e vi ringrazio e oggi partiamo con quello che secondo me è il sistema operativo del 2022. Sicuramente iOS, macOS per alcuni versi saranno progetti più importanti, però credo che la maturità che in qualche modo ci si può aspettare da iPadOS 16 è quella che in qualche modo deve farla da padrona rispetto a quelli che sono stati gli ultimi update, perché dalla prima versione del sistema operativo dedicato ad iPad non è che abbiamo avuto tante novità, quindi mi aspetto che Apple quest'anno possa in qualche modo portare a termine un progetto iniziato lo scorso anno, quando abbiamo visto presentato iPad Pro con il processore M1, abbiamo visto anche lo stesso sistema una chip sul nuovo iPad Air 5, quindi adesso dopo aver completato, diciamo, dopo aver iniziato una transizione verso qualcos'altro, adesso dobbiamo in qualche modo capire come anche dal punto di vista software ci debba essere una risposta. Però il titolo della puntata dice altro, che è un po' ciò che vorrei trattare nella prima parte della puntata, perché unendo un po' il volere che sento da parte mia sicuramente, ma anche da parte vostra, c'è sicuramente la volontà di creare un po' quelle che possono essere considerate, diciamo così, delle nuove caratteristiche che soprattutto iPadOS, quindi dicevamo, deve prendere. Quindi tutto ciò che riguarda il sistema Pro e nella seconda parte della puntata parleremo di tutto ciò che potrebbe arrivare e di che cosa vorrei io. Ma all'inizio di questo episodio vorrei concentrarmi su quello che potrebbe essere un po' il live motif, quello che in qualche modo potrebbe essere considerato un nuovo modo di considerare l'iPad, perché se pensiamo a quelle che sono le nostre volontà, ci concentriamo quindi sul top di gamma, su iPad Pro, ma anche ovviamente sul modello Air, però l'iPad base, ne abbiamo parlato anche negli scorsi episodi, è un prodotto molto diffuso, quindi vorrei iniziare con quella che secondo me potrebbe essere una richiesta ad Apple molto sincera, ovvero la volontà di rendere questo prodotto quello che potremmo considerare forse l'hub digitale di ognuno di noi, visto che uno schermo relativamente grande, da 10 pollici e 2, da 10 pollici e mezzo, da 11 pollici, senza andare ovviamente a straripare ai 12.9 pollici, però se prendiamo in considerazione ad esempio l'iPad mini ha un display da 8,3 pollici fino a tutti gli iPad non Pro, quindi tutti gli iPad che adesso funzionano allo stesso modo, ho raccontato nelle scorse settimane di come ho utilizzato anche iPad 9 come mio tablet di riferimento, ho usato solo quell'iPad come unico tablet per una settimana e ripensando un po' a quelle che sono determinate caratteristiche del prodotto posso quasi considerare ancora il tablet come quello schermo portatile e quindi partendo un po' da questo presupposto mi sono chiesto come alla fine la richiesta che facciamo tutti, le richieste che facciamo tutti siano effettivamente scontate. Quindi un'applicazione meteo sull'iPad, un'applicazione calcolatrice sull'iPad, ma quello che chiedo io è essenzialmente anche l'app salute perché è qualcosa che funziona veramente bene nel 2022. Se sentite anche IoTeX sapete che io quotidianamente uso due iPhone, ho come iPhone principale in questo periodo il 13 Pro e come iPhone personale un 13 mini e quando passo da un dispositivo all'altro io vedo tutti i dati di salute sincronizzati, quindi io allo stesso modo ho lo stesso numero di passi, lo stesso numero di calorie, se riporto i dati su un dispositivo me li ritrovo sull'altro e pur avendo Apple Watch sincronizzato sempre con un solo iPhone e quindi poi salute pesca i dati dall'iPhone 13 Pro in questo caso, mi rendo conto di come avere i propri dati con sé ovunque può essere una buona mossa e ne parleremo sia mercoledì che tra due mercoledì su IoTeX quando parleremo rispettivamente di iOS 16 e soprattutto di WatchOS 9, Apple si sta concentrando in maniera importante sul discorso della salute e quindi mi piacerebbe che iPad possa in qualche modo essere l'hub centrale. Pensiamo semplicemente nella nostra vita digitale, ad esempio possiamo avere, non so, ho una bilancia smart, quindi l'iPhone pesca le informazioni appunto da questo device, però io poi quando vado dal medico, quando vado dal dietologo mi porto un tablet e quindi poter vedere le oscillazioni di peso con, ad esempio, l'applicazione salute, secondo me è un bel plus, quindi mi rendo conto di come la richiesta più semplice possa in qualche modo essere considerata, se vogliamo, un po' un'unificazione che credo sia la parola chiave di questo 2022 perché partendo dal presupposto che la transizione oramai è pressoché completata, il primo giro di computer Apple Silicon si è concluso e quindi in un modo o nell'altro quello che sta facendo Apple anche a livello hardware è quello di avere un'infrastruttura su cui costruire proprio il futuro, quindi mi chiedo se effettivamente anche il software e soprattutto iPadOS possa essere un po' un punto di unione perché, e qua adesso andiamo poi nella seconda parte della puntata, il tablet è quel prodotto che può essere ibrido tra l'iPhone e il Mac. quando Jobs presentò all'inizio, oramai 12 anni fa, il primo modello, lo pose proprio al centro tra lo smartphone e il computer e credo che il ruolo naturale del tablet sia quello, però credo e oramai abbiamo anche qualche certezza in più con le ultime versioni dell'iPad non base di come Apple stia in qualche modo dirottando l'iPad, alcuni modelli di iPad verso un altro modello di business, pensiamo quindi all'iPad base un po' come l'ultimo iPad vecchio stile con il processore della serie A, così come iPad mini che ovviamente ha la 15 quindi ha una bella bestia al suo interno, però oramai la metà dei tablet che Apple vende ha la serie M, quella pensata per i computer. poi sappiamo che sostanzialmente l'M1 è la 14X quindi alla fine tutto in qualche modo viene rimescolato e si parte dalla transizione esattamente all'inizio del nuovo viaggio con la WWDC 2020 che porta il Mac mini con l'iPad dentro perché aveva il sistema una chip dell'iPad Pro di due anni fa quindi in questo caso noi andiamo a concentrarci su quello che è il nuovo corso che quindi si può considerare un po' una nuova era per il tablet perché se lo scorso anno noi abbiamo fantasticato e vi ricordo questo podcast in qualche modo vuole essere anche un racconto personale ma ho voluto dare una svolta zen al podcast per il semplice motivo che oramai sognare non serve a niente ma bisogna in qualche modo partire dai presupposti da quello che abbiamo materialmente per creare una narrazione per capire come i futuri prodotti Apple possano in un modo nell'altro essere anche il frutto di quello che hanno piantato in quel di cupertino. In questo caso il prodotto base diventa l'M1, l'M1 di iPad Pro, l'M1 di iPad Air e quindi da una parte noi potremmo avere una base che è quello che io in qualche modo sostengo da anni alla fine un iOS per iPad e poi iPadOS. perché se da una parte noi abbiamo la possibilità di avere la calcolatrice, il meteo, l'app salute, tutte le applicazioni, l'app telefono, in qualche modo tutte le applicazioni sui nostri smartphone, sui nostri tablet, quello che mi aspetto nel 2022 però è un po' un nuovo punto di partenza quello che secondo me è il primo iPadOS che parte da una richiesta che ho letto ovunque, quindi quello di un vero file system e che poi vada in qualche modo a raggruppare quelle che potrebbero in sintesi essere le cose che un Mac può fare in modo limitato. Credo che Apple abbia deciso di andare in quella direzione, i rumor li stiamo leggendo e se ascoltate questi podcast da qualche tempo sapete che MattOS non rincorre i rumor perché quelli ce li teniamo per il pre-evento della WWDC però quello che sta venendo fuori è in qualche modo un po' una richiesta, in qualche modo una risposta a quelle che sono state le richieste di noi utenti pro e mi ci metto in primis del tablet e quindi io spero che alla fine tutto questo possa in qualche modo diventare una sorta di shortcut based, una sorta di full immersion based in un nuovo mondo, quindi il tablet sostengo debba rimanere touch first però a quanto dicono i rumor, iPad potrebbe avere ben tre anime, potrebbe essere il Moon Knight di Apple sicuramente non si sa chi è Mark, non si sa chi è Steven non si sa se effettivamente ci sia o meno una terza personalità però adesso noi stiamo leggendo di quelle che effettivamente possono essere le due anime che attualmente potremmo considerare quindi l'anima tablet e l'anima convertibile e magari poi delle funzioni specifiche per iPad Pencil eh sì, per Apple Pencil quindi perché dico basato tutto sulle shortcuts? perché credo che alla fine possano esserci dei trigger che vadano in qualche modo a stravolgere l'iPad come lo conosciamo l'iPad deve rimanere l'iPad base anche se spendo 1200 euro per l'iPad Pro io vorrei poter avere quell'iPhone gigante che oramai tengo nel mio zaino da dieci anni quindi un prodotto molto simile all'iPhone un prodotto che parte dal tablet ma che diventa qualcosa in più e quel qualcosa in più io vorrei che poi fosse ripreso da Apple non solo per tutto il segmento Pro ma che possa in qualche modo andare ad accorpare anche quelle che possono essere delle funzioni secondarie ad esempio potremmo quasi considerarla in ottica anti-Zuckerberg o pro-Zuckerberg dipende un po' dai casi quella di creare nel 2022 finalmente un modo per avere in iPad le icone delle app di iPhone che in qualche modo possono andare a creare non dei mostri Frankenstein di iPad per Instagram ad esempio che appunto non abbiano un capone coda e questo lo vado a in qualche modo argomentare adesso perché ho paura possa essere diciamo il problema di un qualcosa basato sulla tastiera e in realtà mi piacerebbe che anche quando sono svaccato sul divano possa interagire con il tablet con il touch e non avere su iPad tutto uno schermo in qualche modo occupato da un qualcosa di devastante poi ho dedicato nello specifico a Zuckerberg all'anti-Zuckerberg in qualche modo una puntata proprio di questo podcast però credo che Apple abbia la decenza perlomeno di andare a sottolineare quello che è anche un modo di usare il tablet quello di alcune applicazioni purtroppo non universali che vadano in qualche modo a sfruttare lo schermo grande in maniera un po' più intelligente diciamo così quello che però a me piacerebbe e in questo momento mi ci metto in gioco in prima persona poi lascio ovviamente a mercoledì su Yetek tutto il discorso legato a quella che è poi l'estensione di ciò che vorrei su iPhone in questo episodio mi concentro solamente su tutto quello che vorrei vedere specifico per iPad a quello che è poi lo strumento perfetto per lavorare quindi andando un po' in avanti con quella che è stata secondo me la funzione più importante introdotta con iOS 15 e mi sto ovviamente riferendo a quello che dappertutto si chiama con un termine latino focus da noi si chiamano full immersion mi piacerebbe vedere una full immersion che vada a sfruttare la Magic Keyboard e che renda iPad praticamente un Chromebook quindi le applicazioni a questo punto e vorrei che lo sviluppatore ritornasse al centro di questo progetto molto interessante che in qualche modo l'applicazione universale fosse in qualche modo parte integrante di iPadOS di questo ibrido e che non solamente l'app per iPhone possa far parte del pacchetto ma anche l'app del Mac quindi io posso andare a creare un'applicazione che in qualche modo faccia il contrario di quello che in qualche modo vuol fare Apple quindi quello che è stato Catalyst la possibilità di far girare su Mac le app per iPad sicuramente è un primo passo però credo che nel 2022 possiamo oramai anche far fare ad iPad Pro ad alcuni specifici iPad Pro quel qualcosa in più anche perché in qualche modo sappiamo benissimo la potenza di questi dispositivi ma non solo la forza dei tablet sicuramente sta nella connettività ne parlerò in uno dei prossimi episodi sarà in qualche modo il topic principale della prossima puntata di questo podcast la cosa che mi ha impressionato di più del mio iPad sicuramente non è lo schermo mini LED con il quale io purtroppo non riesco ad avere un rapporto diciamo un rapporto estremamente solido perché a volte lo amo, a volte lo odio sicuramente le dimensioni non mi soddisfano questo tablet per me è troppo grande lo sottolineo e lo ribadisco ma la cosa che più mi ha impressionato è il discorso del 5G fortunatamente abito in una zona dove la nuova rete cellulare è disponibile ma tutto questo si può anche in qualche modo poi riportare sul discorso LTE ma la cosa bella che per il momento distingue il tablet dal computer è quello di poter sfruttare anche il tablet all'esterno e visto quelli che sono i trascorsi degli ultimi due anni e partiamo dal 2020 anno in cui è arrivato Sidecar quindi la possibilità di avere credo il 2020 purtroppo non sono giuro e bruttini però qualche anno fa è arrivato in qualche modo il prolungamento naturale dello schermo del Mac anche su iPad l'anno che sicuramente azzecco ed è il 2021 è in qualche modo poi qualcosa che in realtà abbiamo visto solo alcune settimane fa e mi sto ovviamente riferendo a quella grandissima cosa che si chiama controllo universale che in un modo o nell'altro potrebbe anche poi rivelarsi l'unione delle due con qualcosa di contrario pensiamo se con iOS 16 e iPadOS 16 tutto questo potrà evolversi e in questo caso noi potremmo avere un controllo universale nel senso che io ovunque con il mio tablet e una connessione wifi ma soprattutto 5G posso connettermi al mio Mac a casa questo potrebbe rendere vane ad esempio le richieste di avere le applicazioni pro su iPad forse sì e credo che nel 2022 ci può stare l'apertura dell'App Store anche ad altre applicazioni abbiamo visto in qualche screenshot il terminale Final Cut Cloud quindi in un modo o nell'altro Apple potrebbe anche starci lavorando però io spero che tutto questo possa in qualche modo rivelarsi reale in due termini le applicazioni poco performanti disponibili sull'iPad e poi la possibilità di avere effettivamente un controllo universale sul tablet permettendo ad iPad di creare una sorta di schermo di gestione remota del computer pensiamo semplicemente e già adesso lo possiamo fare se però dall'altra parte della città noi possiamo controllare il nostro Mac questa secondo me potrebbe essere la svolta creare nel 2022 un vero e proprio sistema per pensare a creare la vera macchina del futuro che è un tablet che ad esempio può e qua potremmo anche poi considerare tutti i lati negativi avere alcune funzioni solamente con Apple Pencil solamente con la Magic Keyboard quindi io non posso usare il tablet per fruire di quelle che sono tutte queste mirabolanti funzioni ovunque ma io devo avere il tablet con determinati accessori e quindi poi sappiamo benissimo come alla fine Apple in un modo o nell'altro possa andare a creare del business su tutto questo soprattutto se poi Apple dovesse in qualche modo tramutare in realtà tutti quei rumor che dicono che il prossimo iPad avrà la Magic Keyboard come come supporto e soprattutto se la nuova Magic Keyboard dovesse essere MagSafe quindi ovviamente avrà il supporto per la Magic Keyboard volevo intendere se il MagSafe dovesse essere un po' anche il punto di base su cui i nuovi accessori potrebbero potrebbero andare poi a creare una nuova era di dispositivi quindi andando a concludere la puntata che va ad arricchire quella che potremmo considerare poi tutta la volontà che metteremo da mercoledì su Yetech credo che iPadOS 16 possa in qualche modo essere il punto di partenza verso determinati mondi il primo è quello di far fare al tablet un passo in avanti nell'ambito dei tablet andando a creare un'estensione del nostro iPhone con sostanzialmente la possibilità di vedere tutti i nostri dati di tutte le nostre applicazioni magari anche facendo del mirroring e potendo considerare un po' anche l'iPad come un'estensione dello smartphone magari appunto controllo universale potrebbe essere sfruttato anche sull'iPhone magari dando a sidecar dando magari anche a splitview un po' un nuovo modo di vedere le cose pensiamo semplicemente ad affiancare i dispositivi usando magari anche nei prossimi tablet il chip 1 quindi noi avviciniamo l'iPhone e l'iPad e anche magari poi in un futuro il Mac i dispositivi riconoscono la posizione nello spazio e poi noi andiamo a creare a ricreare un po' un ecosistema che vada ad arricchirsi di tutti quelli che sono gli altri componenti quindi io se butto magari un'icona a lato anziché spostarmela su una seconda pagina va a poi a diventare parte dell'esperienza di un altro dispositivo e credo che l'iPad si possa prestare bene come prodotto base e poi ovviamente c'è l'iPad Pro che con Magic Keyboard e Apple Pencil possa in qualche modo andare finalmente ad evolversi in quel convertibile che tanti di noi vorrebbero non sto qui ovviamente a dire dell'estensione dei monitor perché credo possa diventare una cosa scontata però perlomeno andare a ricreare quell'esperienza due in uno soprattutto simil computer con una versione di iPadOS 16 che diventa il punto di riferimento del mondo dei tablet e che vada in qualche modo non semplicemente a rimpiazzare quello che adesso è ad esempio Samsung DeX di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane e che indubbiamente potremmo definire come il progetto a cui ambire però andare a creare nel 2022 la vita alla Magic Keyboard un po' più semplice potrebbe essere forse qualcosa di sincero a cui forse noi utenti che da diverso tempo da sei anni da sette anni quasi vorremmo perché semplicemente noi abbiamo creduto ad una promessa che si chiama iPad Pro non dico che forse dovremmo avere un premio però diciamo che quella bella cosa che vorremmo vedere e che si chiama iPadOS 16 forse è la soluzione definitiva per cui la puntata di oggi di Unipad Guy si conclude qui puntata leggermente più lunga del solito perché credo che ci aspettiamo tanto da questo iPadOS vi ricordo che con oggi si apre Maggio OS quindi tutti i mercoledì da settimana questa tra un paio di giorni ci troviamo su Igetec per andare ad analizzare quelli che sono tutti gli altri sistemi operativi e mercoledì parlando di iOS andremo poi a raccontare anche parte integrante di iPadOS perché ad oggi resta ancora una costola quindi quando parliamo di Air Design quando parliamo di iMessage parliamo sicuramente di qualcosa che va a impattare il telefono ma che poi si ripercuote indubbiamente anche sul mondo dei tablet per cui mercoledì vi aspetto su Uetech o se no con un iPad guy ci sentiamo tra 15 giorni per parlare effettivamente di qualcosa di fantastico che questo tablet può fare ovvero lo smart working in modo perfetto ciao this episode has been produced with Bot Cleaner discover more